Dopo il secondo turno di voto delle amministrative 2017, anche in Toscana si conferma la tendenza nazionale che ha visto un'affluenza tragicamente bassa alle urne sotto al 50% e i candidati del centro-destra prevalere in 16 capoluoghi su 22. Il dato toscano più eclatante è la sconfitta dei candidati a sindaco del centro-sinistra in due ormai ex roccaforti del PD, Pistoia e Carrara, a retto l'urto del centro-destra, solo Lucca, seppur per un pugno di voti. A Pistoia il sindaco uscente del PD, Samuele Bertinelli, si è fermato al 45,7% dei consensi, superato da Alessandro Tomasi del centro-destra con il 54,3% dei voti. È la prima volta in 70 anni che Pistoia è un sindaco non di sinistra. A Carrara il sindaco eletto con una vittoria schiacciante è il 5 stelle Francesco De Pasquale, 65% delle preferenze contro il 35,5% del candidato Demma Andrea Zanetti. Sfida all'ultima scheda a Lucca dove Alessandro Tambellini del PD è stato rieletto per 361 voti in più rispetto allo sfidante del centro-destra, Remo Santini. Di fronte a questi risultati, i vertici del PD toscano parlano di sentimenti altalenanti e sottolineano come su sei comuni con più di 15.000 abitanti alle urne, quattro sono rimasti al PD e due hanno cambiato gestione. Di tutt'altro avviso le forze di centro-destra, a dir poco esultanti per il risultato, il coordinatore azzurro Stefano Mugnai ha evidenziato che mai prima d'ora Forza Italia e il centro-destra avevano governato temporaneamente tre comuni, Grosseto, Arezzo e Pistoia, e una provincia, quella di Grosseto. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Giovanni Donzelli, ha parlato di proposta di governo premiata. E ora siamo pronti a strappare al PD anche la regione toscana e l'Italia, ha detto Donzelli. La corsa alla prossima tornata elettorale è già cominciata. La regione toscana concede un sostegno finanziario per il rimboschimento delle aree agricole intorno alle città, zone come il Parco della Piana Fiorentina. Chiunque può partecipare grazie al bando della regione che dà un contributo a tutti i cittadini che decidono di piantare alberi nell'area destinata a diventare il parco agricolo più grande d'Europa. Spenderemo 14 milioni ma avremo l'area più pulita. A chi ci dice che noi invece pensiamo soltanto allo sviluppo in termini di inquinamento? No, noi vogliamo che la crescita, lo sviluppo sia compatibile non solo, ma che ci sia uno sviluppo che migliori l'ambiente. Le risorse che investe la regione arrivano dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 per dare vita a quello che sarà uno strumento fondamentale nella battaglia contro l'inquinamento atmosferico. Questo del miglioramento delle condizioni di vita è sostanzialmente il principio base sul quale si fonda questo bando. Insomma, cerchiamo di migliorare le condizioni di vita di tutti i cittadini. Diamo una mano per ogni pianta che metteremo a dimora a migliorare le condizioni di vita delle persone che abitano in queste zone. All'impegno della regione e a quello delle amministrazioni si aggiunge la supervisione dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali. Le aree dove è possibile piantare sono state individuate nei comuni di Firenze, Prato, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa, Carmignano e Poggio a Caiano. Ma non solo, il bando è aperto per molte altre zone della Toscana. La Toscana come modello dell'efficacia dei fondi strutturali europei e delle politiche di coesione dell'Unione che nella regione hanno prodotto, nonostante la crisi, 100.000 nuovi posti di lavoro. Ne ha parlato il presidente della regione toscana, Enrico Rossi, al Forum Europeo sulla Coesione di Bruxelles, dove è stato presentato anche lo studio di IRPET sull'importanza delle politiche di coesione nella regione. Tra i risultati più significativi la riduzione delle diseguaglianze sociali e la crescita del 17 al 21% del manifatturiero in termini di contributo al PIL toscano. E poi ci sono i giovani. La partita dei giovani ha visto interventi che hanno prodotto con i soli fondi sociali qualcosa come 2.500 posti di lavoro. Più di 2.000 aziende sono state aperte, giovanili, nel settore dell'agricoltura. Abbiamo consentito di fare i tiroscini. Ora, soprattutto dopo la Brexit, con le perplessità manifestate da alcuni governi europei rispetto ai fondi strutturali, i rischi arrivano dai tagli imposti alla politica di coesione dell'Unione, che per Rossi deve essere rifinanziata. Ma non basta. Occorre anche fare di più, perché mancano investimenti pubblici, come tutti riconoscono. Occorrono piani straordinari per l'occupazione. Ci sono i problemi enormi delle cosiddette aree interne e periferiche che la crisi ha lasciato ai margini. E poi c'è il problema della sicurezza e dell'immigrazione. Problemi a cui la Toscana, visti anche i dati IRPET, ha tutte le carte per dare una risposta. Anteprima mondiale delle collezioni autunno-inverno 2018-2019 di Filati per la maglieria, ma soprattutto tanta voglia di innovazione e di fare ricerca. Si è aperta con questo spirito l'81esima edizione di Pitti Filati, alla Fortezza d'Abbasso di Firenze fino al 30 giugno. 132 marchi in mostra, 24 dei quali stranieri in spazi completamente riorganizzati, che comprendono anche la mostra Vintage Selection dedicata al design vintage e al remake di qualità. Obiettivo analizzare e lanciare le tendenze per le prossime stagioni, grazie anche allo spazio ricerca che ha come tema The Human Edition, per superare la crisi che ancora morde il settore della filatura italiana. Secondo i dati di Sistema Moda Italia, resi noti alla vigilia della manifestazione, infatti il fatturato è calato del 2,7% per un giro d'affari di poco più di 2 miliardi e 800 mila euro. Aspettative deluse soprattutto dall'export, mentre è andato meglio l'import e anche il 2017 si mostra in salita per l'industria italiana della filatura. Ora Pitti Filati 81 punta a dare nuovi stimoli e anche a cercare i talenti del futuro, bissando o superando i già buoni risultati dell'edizione dell'estate 2016, quando i compratori furono 5.400, oltre la metà dei quali stranieri. Volevano incendiare un rimessaggio di barche all'isola d'Elba per costringere la titolare a saldare un debito di 60 mila euro con i soldi dell'assicurazione. Questo è il piano smascherato dalla Guardia di Finanza di Firenze, che ha eseguito 5 arresti, 2 in carcere e 3 domiciliari, nei confronti dei membri di un'organizzazione capeggiata da un imprenditore ittico di Piombino. Tutti sono accusati di concorso in estorsione. Per appiccare il fuoco era stato assoldato un pregiudicato di origine siciliana, residente in Francia, per il quale è scattato il mandato di arresto europeo. Un soggetto esperto, se vogliamo dire così, del settore delle estorsioni, quindi con precedenti specifici per tentativi di estorsione, per minacce ed altro, lo incaricano, peraltro dietro il corrispettivo del pagamento di 5 mila euro per l'esecuzione di questa attività e pianificano l'esecuzione di questa attività. La preparazione dell'atto incendiario è stata seguita passo passo dai finanzieri che hanno monitorato l'acquisto degli inneschi, tra cui benzina, legname e lana. Grazie appunto al monitoraggio continuo di questa attività preparatoria siamo intervenuti qualche minuto prima che l'atto venisse poi materialmente posto in essere. Le intercettazioni telefoniche compiute dai finanzieri hanno poi permesso di ricostruire i ruoli di ciascun membro della banda, ricostruendo così il quadro che ha portato agli arresti. La regione toscana è in prima linea contro le discriminazioni, lo ha voluto sottolineare con forza la vicepresidente della regione Monica Barni nel suo intervento al Pride Park, organizzato a Firenze d'azione gay e lesbica. La vicepresidente ha fatto il punto sui diritti delle persone, a prescindere dal loro orientamento sessuale o dalla loro identità di genere. Barni nel suo discorso ha sottolineato che i diritti acquisiti in anni di lotte sono minacciati ogni giorno dagli movimenti nazionalpopulisti. purtroppo stiamo invece assistendo non solo in Italia ma in tutto il mondo a una erosione dei diritti, a diritti che sono diritti acquisiti e che sono stati acquisiti anche con battaglie civili molto importanti. Sto pensando ad esempio alla legge sull'interruzione della gravidanza oppure a acquisizione di diritti per persone che hanno orientamenti sessuali diversi. Bene, tutto questo insomma sembra minacciato. Il Pride Park si svolge per un mese alla limonaia di Palazzo Strozzi, un modo per sensibilizzare sui diritti di gay e lesbiche. diritti che ogni giorno vengono erosi in tutto il mondo come le persecuzioni in Cecenia. La regione toscana è da sempre attenta a queste tematiche patrocinando iniziative come il Pride Park e il Toscana Pride di Arezzo. La regione fa molto e secondo me la cosa molto importante continua a essere prendere le posizioni perché una posizione presa a livello istituzionale, a livello politico, a livello ufficiale è comunque un grosso messaggio perché anche se magari la Toscana non è un brutto territorio rispetto ad altri posti dell'Italia come viabilità per le persone omosessuali, però comunque ci sono ancora abbastanza problemi. Sempre in tema di diritti civili, la vicepresidente Barney ha inoltre sottoscritto alla proposta di legge e di iniziativa popolare Ero straniero, l'umanità che fa bene per superare la legge Bossi Fini e cambiare le politiche sull'immigrazione puntando su inclusione e lavoro. Anche dopo il maltempo resta l'allarme siccità. Da ottobre a oggi in Toscana sono piovuti almeno 200 mm di acqua e meno della media. E la regione corse ripari con un piano straordinario di interventi indirizzato soprattutto alle zone più colpite dalla crisi idrica la Maremma, l'Elba, la Val di Cornia, la Val di Cecina e le Apuane. Il piano prevede alcuni interventi in risposta all'emergenza attraverso 25 pozzi e opere da realizzare per garantire la risorsa idrica nelle zone con maggior difficoltà. Il presidente della regione, Enrico Rossi, dopo aver dichiarato l'emergenza regionale ha inoltre annunciato l'invio al governo della richiesta di stato d'emergenza nazionale. Anche molti comuni della Toscana hanno emanato ordinanze per evitare lo spreco d'acqua da Lucca a Firenze, Siena, Grosseto, alcuni comuni della Retino, Pistoia, Massa e Pisa. Lo scopo è quello di limitare il consumo di acqua potabile per fini non domestici come il riempimento di piscine o l'innaffiamento di giardini e orti. L'emergenza al momento interessa in maniera più pesante l'agricoltura, soprattutto quella delle zone sud della Toscana, Costa e Maremma. I rappresentanti delle categorie agricole hanno evidenziato cali di produzione consistenti fra il 30 e il 40% in quasi tutte le colture dai cereali agli ortaggi, con situazioni ancora più gravi per girasoli e foraggi. Problemi anche per le piante di olivo. Tre chilometri e mezzo di strada che grazie al bypass girerà gli abitati di Ponte Elsa e Brusciana. È il sesto lotto della variante alla strada regionale 429 di Val d'Elsa, tra Empoli e Castelfiorentino, sul cui cantiere si è recato per un sopralluogo l'assessore alle infrastrutture della regione toscana Vincenzo Ceccarelli, con i rappresentanti degli enti firmatari dell'accordo di programma. 6 milioni e 427 mila euro per il completamento dei lavori a cui si è arrivati dopo l'invio da parte della regione di un commissario per superare lo stallo nella precedente gestione dei cantieri. Ha trovato un cantiere che era un cantiere disordinato, abbandonato. Ha impostato un lavoro, a mio avviso, molto intelligente per quanto riguarda le gare che ha prontato, facendo per prime anche opere connesse e funzionali che potevano essere scorporate dal lotto centrale. Il tracciato nel tratto da Brusciana allo svincolo Empoli-Centro della Fipili, che supera anche il passaggio a livello di Brusciana, il più incidentato della Toscana, fa parte di un percorso più ampio che comprende anche un quarto e un quinto lotto di prossima realizzazione e attraversa un'area di grande importanza paesaggistica, con vantaggi di grande rilievo per la circolazione. Aprire questo lotto, aprire da Molin Nuovo allo svincolo di Empoli-Centro significa togliere dalla tagliola del passaggio a livello di Brusciana sia chi pendola con la macchina, sia chi prende il treno per andare a lavorare o per studio. Noi oggi siamo in grado di percorrere il primo tratto da Empoli fino a Molin Nuovo e anche di avere già pronti tutti gli atti per andare in gara sui due tratti successivi. Nello stanziamento per la realizzazione del sesto lotto sono comprese anche le opere di sistemazione ambientale, mentre sono già stati realizzati i lavori connessi con l'apertura della strada. Ci siamo occupati in particolare di individuare una nuova tipologia di pacchetto stradale per dare una maggiore durabilità nel tempo alla strada rispetto a ciò che era stato fin lì immaginato. A completare il quadro sono state realizzate le opere di dettaglio come il cavalcavia e le rotatorie.